Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES Patomex S, Messi Valdes, fumo un po' e dopo gioco a PES Accento e dico O, yes, fumo un po' e dopo gioco a PES Se mi riprendo... Siamo alla palestra di... Buongiorno a tutti, la prossima... Si sono svolte... No, spero... Si sono svolte sabato a Cantù le prove... Vado? Ricordiamo che l'entrata è libera e domenica verrà proiettata anche la partita degli Europei 2012 Italia-Spagna Mensa a prezzi popolari, salamelle... Vaffanculo! Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti L'alta pressione nordafricana garantirà un inizio massimo tra... Buongiorno a tutti Nei giorni della prossima settimana si indebolirà l'anticina Niente Buongiorno a tutti Nei giorni della prossima settimana si indebolirà la... Ecco... Da giovedì Eh... Si indebolirà l'alta pressione... Ok Buongiorno e ben ritrovati per una nuova edizione del nostro TG Oggi ospite caffettio Ieri... No, ho già sbagliato Buongiorno e ben ritrovati per la nostra nuova edizione del... No Devo cambiare i tempi verbali Si è svolto anche il 4... Si è concluso il 19esimo torneo internazionale di calcio in memoria di Gianni Vrera E abbiamo... Dato il primo trofeo Brianzo No Buongiorno e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento Oggi il nostro TG... L'evento di solidarietà è ben riuscito Non mi piace Come avete potuto vedere dalle immagini L'evento è stato un grande successo Nonostante... Grazie per averci seguito E chiudiamo con un grande... Ciao ciao Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Da mercoledì Casse vuote per il comune Tanto da dover introdurre l'aliquota IRPEF Per la prima volta infatti i cantorini si troveranno a dover pag... No, ho sbagliato dai Casse vuote per il comune Tanto da dover introdurre l'aliquota IRPEF Per la prima volta infatti i cantorini si troveranno A dover pagare l'ente comunale l'imposta sul reddito Si sta svolgendo Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Nel corso... Ho sbagliato Buongiorno a tutti Nel corso della prossima settimana L'anticiclone... Buongiorno a tutti Questo era tutto per il nostro TG Vi ringraziamo per averci seguito No, no, seguito Buongiorno a tutti L'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato... Buongiorno a tutti L'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da tempo variabile... Buongiorno a tutti L'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da tempo variabile e clima fresco Porterà del tempo un po' ovunque con clima... Un po' ovunque con clima fresco Ho sbagliato Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti